Musica Adesso è giunta l'ora di farsi sentire i tavoli tecnici, gli incontri e soprattutto gli impegni al momento non mantenuti hanno indotto i rappresentanti dei comitati del porto rifugio di Gela a scendere in campo. La marineria hanno detto è al collasso e sta morendo tra l'indifferenza della politica. Il comitato del porto non è solo il comitato del porto di singole persone ma è il comitato della città dove praticamente tutti possono intervenire e devono intervenire per far sentire la nostra voce perché dobbiamo far capire a questi signori politici che il porto di Gela è della città, non è solo un bacino di voti ma è un porto che serve alla città quindi la riunione ha avuto un ottimo risultato per noi e speriamo che adesso faremo sentire veramente la nostra voce perché siamo per indire anche degli scioperi in oltranza chiuderemo il porto e poi vedremo che cosa fare ma qualcosa sicuramente faremo, ci faremo sentire sicuramente e seriamente. Se per 40 anni siamo ridotti a questo punto credo che comunque la politica abbia maggiori responsabilità perché non ha rappresentato le esigenze dei lavoratori, dei cittadini, tutto ciò che opera lì la portualità di Gela quindi chiamare politici e non chiamare nessuno a questo punto per questo non abbiamo voluto la loro presenza, anzi credo che si sarebbe perso altro tempo. Ci siamo resi conto che la cittadinanza è con noi, i cittadini sono con noi, i cittadini vogliono fortemente questo porto a Gela quindi assieme a loro ci stiamo organizzando per poter dare luce finalmente a questo porto poter portare a conoscenza tutto quello che succede e tutto quello che è successo all'interno di questo porto per gli anni passati e gli anni che si sono stati. Spero a più presto di poter dare dati dove poterci riunire per cercare di fare questa protesta tutti assieme. La mozione mira a dare in affidamento tutti i terreni inutilizzati e non edificabili a scuole, associazioni, aziende, attività commerciali e anche a cittadini in modo tale che possano provvedere alla pulizia di queste aree rimaste senza manutenzione e avere dei benefici. Che tipo di benefici? A livello economico dunque dovrebbe essere il Comune a pagare i volontari? No, diciamo che non avranno un beneficio monetario ma per le scuole e le associazioni si potrà dare queste aree per incentivare quindi l'educazione alimentare e l'educazione ambientale mentre le aziende e le attività commerciali potrebbero avere un ritorno d'immagine apponendo in queste aree un proprio logo mentre i cittadini avranno uno sgravio della Tasi con un accordo fatto con il Comune. E quando adesso il Comune vi darà una risposta in merito alla delegazione che l'ha presentata? Allora innanzitutto dovrà essere votata dal Consiglio Comunale e dopo questo l'amministrazione dovrà provvedere a censire tutte queste aree che sono inutilizzate e incolte e provvedere a fare un mando e fare in modo che tutti i cittadini, chi ha interesse e anche le aziende, ne facciano richiesta. In che richiesta sono numerose le aree incolte? Sono tantissime e siccome gli operatori sono pochi nonostante un'accurata programmazione non riescono a ricoprire tutto il territorio gelese se oltre questo non si possono fare assunzioni quindi per fare in modo che la nostra città possa diventare gradevole per noi e soprattutto per le persone che vengono da altre città dobbiamo anche noi collaborare. E poi queste aree da chi saranno controllate? La mia idea sarebbe quella di essere controllate dai consiglieri comunali cioè mensilmente ogni consigliere comunale potrà vigilare su queste aree perché il mio ragionamento è alquanto semplice in quanto si farà un elenco di tutte le aree che sono state affidate avendo questo elenco mensilmente i consiglieri comunali potranno vigilare affinché la manutenzione venga fatta. La chiesa madre di Gela è pronta per riaprire le porte alla cittadinanza sono stati eseguiti dei lavori nello specifico quali? Il rifacimento degli stucchi perché già alcuni erano ormai obsoleti e si erano frantumati e poi la posa della foglia in oro negli stucchi laddove ci sono state delle lacune e dopo la pavimentazione dopo l'ambone nuovo e dopo tutto questo lavoro io credo che oggi veramente la città può godere di questo nuovo tempio sacro abbiamo anche rifatto fare e rivisitato proprio le lapide della facciata principale nelle porte secondarie eppure questo un lavoro in modo che quello che era possibile fare grazie a Dio e soprattutto con l'attenzione della parrocchia e della CEI noi l'abbiamo potuto realizzare l'odiamo il Signore ed inneggiamo a Maria La felice circostanza della festa della patrona che si avvicina appunto coincide con questa riapertura è davvero un momento felice per questa parrocchia ma soprattutto per tutta la città che aspetta la sua patrona l'abbraccio con la sua patrona Io credo che la cosa più bella che possiamo esprimere è soprattutto perché quest'anno nell'anno giubilare della misericordia è questo abbraccio di Maria ed abbiamo voluto proprio questo volto della Madonna perché nel volto della Madonna c'è veramente l'espressione della misericordia di Dio è un volto che si chida sul popolo è un volto che ci mostra sempre il suo figlio Gesù è il volto che ci viene a dire perché temere gela non temere perché io sono accanto a voi per quanti disastri possono esserci a Gela non vi abbandonerò il sindaco e la giunta hanno abbandonato le associazioni animaliste di Gela noi senza aiuto non ce la facciamo sono numerosi infatti casi di randorgismo e di mancata prevenzione che si verificano a Gela e che fine a fatto il centro di sterilizzazione presentato dalla precedente amministrazione e dall'Asp protesta dinanzi al palazzo municipale un modo per sensibilizzare la giunta a collaborare con le associazioni l'iniziativa è stata promossa dall'associazione Il Mondo di Pluto noi chiediamo all'amministrazione quello che avevamo ottenuto negli anni passati per cui la microcippatura perché andarli a microcippare a Niscemi non sempre è possibile noi siamo solamente tre volontari attive e dicasi tre quindi ci dobbiamo occupare di andarli a microcippare di andarli a vaccinare di custodirli di accudirli di farli partire cioè alcune volte è difficile andare a Niscemi e dobbiamo ripiegare a Gela pagando ma pagando con i soldi che non abbiamo perché noi fondi non ne abbiamo più noi viviamo con le donazioni alcune volte arrivano alcune volte no per cui prima avevamo la microcippatura a Gela avevamo iniziato ad avere la sterilizzazione avevamo messo anche dei cani nel territorio una volta sterilizzati due dei quali sono stati adottati pur essendo liberi nel territorio per cui tutte queste cose sono venute a mancare e l'amministrazione questa di adesso è assente a 360 gradi una sola riunione con il signor sindaco io dissi chissà che cosa ci deve dire no ha parlato del randaggismo come a calappiare i cani ma a parte che non era una cosa nostra e poi non potevamo dare nessuna indicazione su come farlo una sola riunione e via il sindaco ci ha liquidati così ora questi canuzzi il signor sindaco non sa che sono suoi la responsabilità è sua quindi noi come liberi cittadini non ci possiamo mettere a suo posto uscire soldi di tasca nostra noi volendieri facciamo il volontariato usciamo ci perdiamo ore perdiamo tempo e però giustamente noi i fondi non ne abbiamo più prima ci hanno dato un mondo non è che era moltissimo per carità però era sempre qualcosa cioè 1500 euro non è che erano che si ci poteva scialacquare ma qualcosa siamo riusciti a farlo adesso zero a sindaco non interessa niente riconversione in occupazione e sentenza dal consiglio di stato sono alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso di un incontro che si è svolto nei locali della Femme Cazzisla di Gela alla presenza del segretario nazionale Angelo Colombini la sentenza dal consiglio di stato che ha bocciato le richieste avanzate da comuni e associazioni di sospendere le perforazioni e i completamenti di alcuni pozzi per la stazione del gas adesso dice Colombini apre uno scenario completamente diverso noi dovremmo chiedere innanzitutto all'ENI di non tergiversare sugli investimenti visto che il consiglio di stato ha rigettato con la sentenza il ricorso fatto da alcuni comuni e da alcune associazioni ambientaliste questo vuol dire che ENI deve rilanciare gli investimenti immediatamente proprio per dare corpo all'occupazione del territorio proprio per rilanciare sempre il territorio come peculiarità dei cittadini e dei lavoratori dall'altro lato il governatore e le istituzioni centrali governative devono sempre più frettolosamente dare le autorizzazioni per completare tutto il protocollo perché non è possibile che per un'autorizzazione dobbiamo aspettare sei, sette, otto mesi e questo andrà a discapito purtroppo con questo tempo perso andrà a discapito dei lavoratori sia quelli del interni alla raffineria ma sia quelli dell'indotto poi se i tempi sono cosuliunghi non possiamo lamentarci se i lavoratori e i cittadini si arrabbiano fanno bene ora la responsabilità è che il governatore della Sicilia e i ministeri autorizzativi rilascino sempre di più immediatamente le loro competenze intanto il prossimo 19 settembre incontro al ministero dello sviluppo economico altro tavolo in merito ai lavori della Green Refinery noi adesso chiederemo anche un incontro a livello regionale per quanto riguarda tutte quelle autorizzazioni atte che non sono solo perché quel protocollo prevedeva solo la perforazione ma anche per quanto riguarda l'esplorazione per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo ma non è una vero molto più chiara Francesco Emiliani cosa quel giorno la CIS le metterà sul tavolo delle trattative sicuramente quello che è l'immediata attuazione di quello che era un percorso che già Eni aveva detto per quanto riguarda l'acquisto dei materiali noi fermamente diremo di accelerare più velocemente quello che è l'acquisto e la realizzazione della piattaforma stessa per quanto riguarda la Green Refinery abbiamo avuto un incontro con Eni sono diciamo in linea possibilmente su quelli che abbiamo i prossimi incontri possiamo dare delle informazioni più dettagliate se nel prossimo futuro nel 2017 questo che siamo in linea è ancora fattibile Emanuele Gallo segretario generale CISL ad oggi ci sono responsabilità per quanto riguarda il governo regionale per l'autorizzazione alla perforazione a terra e nello stesso tempo noi abbiamo problemi per quanto riguarda la questione della cassa integrazione dell'indotto perché nell'ultimo incontro che c'è stato al Ministero dello Sviluppo Economico il sottosegretario Bellanova diceva di utilizzare circa il 5% della cassa integrazione in deroga che rappresentano circa 400 euro una goccia nell'oceano per questo comunque deve intervenire il governo nazionale affinché dia la possibilità di dare cassa integrazione per le aree di crisi complessa nel nostro territorio Tira aria pesante sulla vicenda Porto Rifugio di Gela ed in particolar modo sul mancato inizio dei lavori di dragaggio ieri ai nostri microfoni il vice sindaco Simone Siciliano aveva detto che l'amministrazione comunale è attiva e non c'è alcun ostacolo si sta lavorando per chiudere positivamente la vicenda non è dello stesso avviso il Movimento 5 Stelle che chiede la testa di Siciliano invitando il sindaco a sollevarlo dall'incarico perché dice una nota si è dimostrato inadeguato e non capace a perseguire l'iter autorizzativo procedurale di un progetto di pubblica utilità secondo Grillini la giunta comunale sembra interessata solo al declassamento del porto di Gelada Sin sito di interesse nazionale Assir sito di interesse regionale ottenendo così minori garanzia tutela del territorio e maglie più larghe per opinabili interventi di riconversione ed è per questo sostengono i consiglieri del Movimento 5 Stelle che l'amministrazione comunale non ha fatto partire alcun iter autorizzativo riguardo il progetto dei lavori di dragaggio del porto rifugio che giace ancora alla protezione civile durante l'ultimo incontro scrivono in una nota i consiglieri ventastellati tenutosi lo scorso 24 agosto in consiglio comunale dove erano presenti anche il tecnico del dipartimento protezione civile della regione siciliana l'ingegnere Calafato il tecnico del genere civile ed esponenti della politica locale tra cui diversi consiglieri comunali il vice sindaco dopo essersi fatto attendere ha esordito affermando di non comprendere l'oggetto della riunione e soprattutto l'esigenza della sua convocazione a questo suo inspiegabile supporto ha poi giunto che la responsabilità della dilatazione dei tempi nell'iter procedurale è da debitarsi al dipartimento della protezione civile e non certo dell'amministrazione nel più classico degli scarici a barire pochi attimi dopo però smentiva se stesso affermando che non c'era alcun ritardo e che tutto procedeva con i giusti tempi ribadendo che firmare o meno il protocollo non inficiava l'iter autorizzativo le affermazioni del vice sindaco Simone Siciliano sarebbero però state smentite dall'ingegnere Calafato il quale ha dichiarato che la protezione civile non può procedere in assenza di una copertura finanziaria dell'intervento il Movimento 5 Stelle di Gela tramite il consigliere Virginia Farugia ha rilevato le lamentele della protezione civile dicendo che sembrerebbe esserci una volontà del vice sindaco di dilatare i tempi per poter dire che la responsabilità dei periodi lunghi deriva dal fatto che il porto di Gela è un sito di interesse nazionale obiettivo dell'amministrazione sarebbe invece secondo 5 Stelle quello di arrivare al riconoscimento SIR sito di interesse regionale ma secondo il gruppo consigliare Pentastellato questo aggraverebbe ancora di più la situazione del porto perché allungherebbe ancora di più i tempi di presentazione del progetto e provocherebbe la perdita dei fondi che il governo nazionale può stanziare per il comune di Gela e per il suo risanamento fondi ricevibili solo sullo stesso rimarrà sito di interesse nazionale fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto gela il primo comune ad adottare la nuova motoristica adeguata al testo unico dell'edilizia così come recepito nell'ordinamento regionale è durato così solo una settimana lo stop degli uffici comunali alle stanze e alle comunicazioni riguardanti interventi ed edilizzi il comune di Gela nel giro di in pratica dieci giorni dall'emissione della legge regionale che acquisisce le linee generali della legge nazionale presenta oggi tutta la documentazione per consentire di gestire le pratiche in ambito dell'edilizia noi subito dopo Ferragosta siamo stati costretti a interrompere lo sportello a causa proprio di questa legge che in modo per interventorio cambiava le regole il comune di Gela credo che sia il primo in Sicilia fra le altre cose nel giro di dieci giorni grazie al lavoro fatto dai dipendenti comunali grazie al lavoro da parte della dirigenza dell'assessore fra le altre cose in periodo di pieno agosto periodo di ferie nel giro di dieci giorni è riuscito a mettere a disposizione della città di Gela quegli strumenti che consentiranno di poter attivare le pratiche edilizie in termini ancora più generi e soprattutto certi abbiamo costituito un pool di lavoro per allineare la modulistica da presentare per le pratiche edilizie al comune di Gela ci siamo riusciti e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato in questo modo i professionisti nella presentazione delle pratiche edilizie potranno avvalersi della nostra documentazione che è scaricabile nel sito del comune di Gela immediatamente utilizzabile per la presentazione delle attività edilizie di competenza del comune di Gela ci sono alcune attività che sono libere altre che vengono sono subordinate ai titoli abilitativi previsti al 380 e nello specifico abbiamo i moduli per la comunicazione di inizio lavori la comunicazione di inizio lavori asseverata la scia che sono la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire questi in sintesi estrema sintesi sono i titoli abilitativi che adesso dobbiamo imparare a parlare e a riferirci con questa terminologia che sono i nuovi titoli edilizie previsti dal 380 così come è recepito quindi al comune dalla regione Sicilia e adottati dal comune di Gela è una norma che è stata recepita con alcune modifiche ma che mette quantomeno in coerenza in modo di valutare i progetti in Sicilia e nel resto d'Italia è stato inserito anche un modo automatico di recepire le eventuali successive modifiche e questo lo giudico un fatto molto positivo perché non costringe ad attendere il recepimento specifico ma eventuali norme che vengono modificate a livello statale possiamo andarle a vedere a analizzare e valutare già immediatamente perché immediatamente operativi con te tre anni fa che Gela ha trovato a distanza di tre anni che Gela lascia una Gela ha profondamente cambiato sono cambiate veramente tante cose sicuramente un calo del numero dei reati in questa città non siamo riusciti totalmente ad abbattere il numero degli incendi a ridurre lo zero ma gli incendi e i danneggiamenti seguiti di incendi sono ridotti notevolmente in questa città così come anche il numero delle rapine ai supermercati ai tabaccai e alle farmacie che prima costituivano una piaga anche in abitazione e questo grazie al lavoro investigativo dei miei carabinieri e delle altre forze dell'ordine coordinati alla procura repubblica di Gela siamo riusciti a farlo in tempi rapidi ed assicurare tantissimi criminali la giustizia ma lavorare a Gela è facile è semplice non è semplice io qui a Gela ho trovato tantissima difficoltà all'inizio nell'ambientarmi anche se venivo da un'esperienza pregressa in Sicilia a Mazzara del Vallo e a Catania però poi dopo ho capito tante dinamiche sono riuscito anche grazie ai miei collaboratori a comprenderle soprattutto grazie all'ambiente favorevole che si era creato intorno a noi parlo soprattutto dei giovani che ci hanno aiutato tantissimo e parlo anche di quelle famiglie buone e sane che vogliono il bene dei loro figli e che sono riusciti anche con noi a collaborare a raccontarci tante cose e con lei parlava di giovani numerose le visite fatte proprio a scuola dai carabinieri cosa vi hanno chiesto in quelle occasioni i giovani i giovani intanto erano animati da un grande senso di fiducia e di emergere nella società qui ho trovato tantissima pespicacia tantissima volontà proprio di esprimersi e di far varere le loro potenzialità loro ci chiedono sempre un ulteriore maggiore controllo del territorio ricordiamo però che per esempio la droga l'uso di sostanze stupefacenti le droghe leggere rappresentano ancora una piaga per questa città non a caso le ultime operazioni che ci hanno portato a sequestrare considerevoli quantità di sostanze stupefacenti penso alle coltivazioni di piantagioni nel territorio qui limitrofo ci dimostrano come effettivamente la domanda di stupefacenti sia tuttora elevata e soprattutto anche le numerose segnalazioni e i sequestri che abbiamo fatto a carico degli stessi in questi tre anni è riuscito a fare tutto o lascia qualcosa? no, non si può mai riuscire a fare tutto io sono salito su un treno in corsa e adesso scendo alla prossima stazione poi lascerò questo treno al mio collega che mi subentrerà la prossima settimana e che è un validissimo di corso e che proseguirà verso una meta noi in questi tre anni abbiamo cercato di darci degli obiettivi nel breve e medio termine soprattutto di colpirli e di raggiungere e di portare avanti dei risultati coordinati dalla Procura di Gela ripeto anche dalla Procura Repubblica verso il Tribunale di Caltanissetta e soprattutto di dare delle risposte concrete alla popolazione e al cittadino che ce le chiedeva e cosa porta di Gela nella nuova destinazione? la volontà la capacità di emergere la fiducia da parte delle nuove generazioni e soprattutto il loro intuito la loro capacità e voglia di raccontarti anche le cose perché poi alla fine il gelese si trova fiducia in te e in modo particolare le cose te le racconta e te le racconta anche in maniera anche forse irruenta dal punto di vista verbale solo quello però soprattutto vera un oggettivo per Gela? una città che cambierà ma una città in continua evoluzione quindi fortemente dinamica non cambia il panorama sulla guida dalle scuole gelesi per l'anno scolastico 2016-2017 confermati tutti i dirigenti dello scorso anno unica novità è l'incarico di diregenza per il primo circolo Antone Taldisio l'unico rimasto senza dirigenza un incarico affidato ad un decano tra i dirigenti gelesi si tratta del preside dell'istituto di istruzione superiore Eschilo Giacchino Perlitteri che è ritornato dopo quattro anni nella scuola di Via Ferace che ha diretto per un ventennio trovo una grossissima novità in quanto questa scuola nel frattempo ha subito dei cambiamenti notevoli e quest'anno questa scuola ricomprende anche l'ex quinto che poi era diventato ex terzo e che quindi quest'anno quindi Santa Maria di Gesù e le Benedettine confluiscono nei cappuccini per formare il primo circolo conosco gran parte di tutti gli insegnanti ho ritrovato il mio bellissimo panorama sul mare ho ritrovato tantissime amiche collaboratrici e professioniste valide con cui speriamo di trascorrere un anno intenso di impegni e di attività Perlitteri ritrova una scuola che è stata ben diretta dal suo predecessore Adriana Quattrocchi è un bel ricordo perché fra l'altro devo dire che in questa scuola quanto nei quattro anni che io che mi hanno visto lontano c'è stato un pensionamento una festa sono sempre stato invitato quindi c'è stata un'assoluta continuità anzi mi ha telefonato la collega mi ha telefonato ieri molto cordialmente ci faremo un passaggio di consegne pedagogiche e didattiche senza alcunissimo problema quest'anno dunque Perlitteri dirigerà un comprensivo oltre al classico e al liceo delle scienze umane nella scuola succede che a volte un dirigente debba avere più scuole penso che 23 anni 24 anni di esperienza di dirigenza siano sufficienti per saper gestire e poi ripeto vedremo di trovare qui una soluzione di qualche insegnante di qualche collaboratrice molto in gamba che possa anche decidere qualcosa in mia assenza anche sentendoci solo per telefono Buon anno scolastico a tutti i gelesi e a tutti gli alunni di questa scuola Grazie a tutti i gelesi e a tutti i gelesi